Buongiorno raga, direttamente dal mio letto in compagnia di Pippo, vi faccio vedere l'ultimo unboxing di questo periodo, mi è appena arrivata e si tratta del cappucinatore della Cecotec, il Power Mocha Spium 5000. Questo è un cappucinatore molto molto carino, vi permette di fare la cioccolata calda, vi permette di fare il latte montato con la cottura quindi a caldo e anche la montatura a freddo, quindi un cappucinatore davvero carino. Andiamo ad aprirlo, vediamo com'è. Prima cosa, aprendolo, troviamo il manuale di istruzioni, questo chiaramente è in tutte le lingue come tradizione di casa Cecotec, qua ci sono tutte le spiegazioni per il primo avvio, per quanto riguarda la ricetta della cioccolata e così via. Io credo che andremo a fare però il cappuccino poi come prova perché è quello più tradizionale ed è quello per cui secondo me a tutti interessa questa macchina. Allora aperto in la confezione abbiamo il bicchiere, qui abbiamo vedete i livelli minimi e massimi, questa è una ciotola che dovrebbe essere magnetica, qua va a scaldarsi anche e questo è sull'altra macchina che vi faccio vedere che è la parte del motore, qui è isolato con la gomma quindi anche quando è caldo è perfetto e poi al beccuccio per far scendere il latte. Allora gli accessori, qua abbiamo il coperchio dove si fissano le fruste e abbiamo quella per il latte, questo è per montare il latte caldo o freddo, come vedete ha la molla ed è abbastanza classico, poi questo si innesta nella parte superiore, vi faccio vedere dopo. Questo per quanto riguarda l'accessorio latte sempre ma senza la molla quindi funziona così, poi questi si possono estrarre qua lateralmente, non so se si riesce a vedere ma può scorrere qua fuori e questo invece è l'accessorio che va a montarsi su questo per andare a fare la cioccolata calda, siccome la cioccolata qua consigliano di utilizzarla con dei pezzi di cioccolata proprio, non con la polvere anche se volendo potete usare anche quella, questo serve proprio per montarla per bene. Ora vi faccio vedere come si innestano questi su questo. Allora come vedete qui ha una sorta di incavo, questo va a incastrarsi lì in questo modo, con una sola mano viene sempre peggio ma facilissimo, sia l'uno che l'altro, gli altri accessori si montano entrambi alla stessa maniera. Mentre per quanto riguarda, credo ci sia un sistema magnetico che fa oscillare questa questa parte, quindi non c'è un motore qui ma è la parte proprio magnetica che agisce dalla parte bassa verso questo. Per quanto riguarda questo qui, invece questo va sfilato lateralmente, così, ecco fatto, visto? Sfilato di lato, quindi si innesta questo qui, ve lo faccio vedere, così, ok, e quindi si fa scorrere lateralmente, qui lateralmente, vedete? Questo. Adesso ve lo riattacco e ve lo faccio vedere. Spero che si capisca, è facile, è veramente facile, è molto intuitivo, quindi questa cosa, vedete, oscilla, però è fissata qui in alto, quindi oscilla solo da sotto. È un sistema che mi piace. Quindi, assemblaggio finale, voilà, facilissimo, e quindi si innesta sull'altra parte che ora vi farò vedere. Eccola qui. Questa è la parte del motore. Come vedete qui c'è anche una tensione, questo diventa caldo, chiaramente perché è lui che genera il calore che va a scaldare il nostro latte, questo indica che è inserito il nostro supporto, questo qui, ecco fatto. Davvero facile. E qui abbiamo i pochi comandi, ossia il montare a freddo, questo, l'accensione, montare a caldo e la cioccolata. Quindi, facilissimo, è tutto automatizzato. Una volta che voi lanciate il programma, tenete premuto e parte, fa tutto da solo, quindi ci sono dei tempi preimpostati, poi chiaramente potete anche fermarlo prima, semplicemente spegnendo. Il consumo, come avete visto, è di 650 Watt, quindi non consuma tantissimo. E anche la quantità di latte, secondo me, basta per due persone, sicuramente, per due cappuccini e anche per due cioccolate abbondanti. Non ci rimane che andare a provarlo. Pippo, sei d'accordo? Pippo? No, non è d'accordo. Non ama il latte. Veniamo alla preparazione del nostro cappuccino. Aggiungiamo il latte nella nostra tazza. Allora, qua noi ne metteremo fino al massimo. Ne faremo due tazze. Ecco qui. Leggermente lì sotto del limite massimo, così siamo tutti in sicurezza. E andiamo nella macchina. La macchina, come vedete, è collegata alla corrente, sta lampeggiando. Quindi andiamo ad aggiungere il nostro cappucinatore qui. Vediamo che la macchina segna azzurro, quindi è a posto, ha riconosciuto l'apparecchio. Andiamo a tapparlo. Utilizzeremo questo accessorio. Quindi inseriamo, chiudiamo per bene. Ok. Dopodiché andiamo a selezionare il tasto per il cappuccino caldo, che è questo. Sì. Ed eccolo, sta partendo. Vi faccio vedere. Ed ecco il nostro cappuccino pronto. Guardate quanta schiuma. Non so se vi rendiate conto, ma è tantissima. Quindi andiamo a versarlo nella tazza. E assaggiamo. Il cappuccino. Aggiungiamo la schiuma. Guardate che roba. Aggiungiamo il caffè. Ed ecco il nostro cappuccino. La spiegazione. Allora, io ho utilizzato questi livelli, come vedete, minimo, massimo, massimo, massimo. Ce ne sono diversi di livelli. Io ho utilizzato questo, l'ultimo, ma è per la cioccolata calda. Mentre per il cappuccino, vedete che è indicato qui, il massimo era questo. Quindi io ne ho fatto un eccesso. Ed è per quello che stava per trasbordare tutto quanto. Quindi il problema è stato un mio errore di valutazione di questa scala. Quindi leggete con attenzione qui. Dovete arrivare qua, come massimo. E vi assicuro che con la quantità che ho messo io, ne sono venute quattro tazze di cappuccino. Quindi veramente tantissimo. Quindi è quello il massimo che dovete utilizzare. Molto in basso. E ora, come al solito, il nostro resoconto finale. Ve lo consiglio? Sì. Fa una crema incredibile. È paragonabile a quella di un ottimo bar. Forse anche più densa. Quindi come cappucinatore è fantastico. Questa, come vedete, la gomma si può estrarre. E quindi si può lavare perfettamente. Quindi i problemi non ci si pongono. Anche se dovessi uscire un pochino. Trovate il link in descrizione, come al solito. Il mio codice sconto per acquistarlo del 5%. E se lo acquistate, fatemi sapere come vi trovate. Ciao raga, alla prossima.